Anche quest'anno lo SPICGL ha una proposta per quanto riguarda l'area benessere che è quella tipologia di ambito che serve a radunare tutte le persone che sono interessate a un momento di coesione e di partecipazione. La prima proposta che sta in un'area molto tradizionale è la proposta legata al carnivale. Quest'anno si è individuato nella città di Brescia, una delle due capitali della cultura, una città da visitare. È prevista una visita guidata la mattina per quanto riguarda l'ambiente storico, artistico e archeologico della città e prosegue in pomeriggio più conviviale presso un agriturismo della Franciacorta dove ci si potrà incontrare, mangiare insieme e passare dei momenti ludici dedicati all'aballo e alla conversazione con la presenza di Hauser che come tutti gli anni propone una lotteria con la quale finanzia anche parte delle loro attività. Le giornate dedicate a questo evento sono quattro e sono domenica 19 la prima giornata, martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio. Si partirà ovviamente da Lecco. Per quanto riguarda le iscrizioni ci si potrà rivolgere a qualsiasi sede dell'ospice GL presente nella nostra provincia. Accanto a questa giornata diciamo dedicata al carnevale abbiamo pensato a una due giorni, anche questa nella nostra tradizione e quest'anno è dedicato a Parma. Parma che avrà così una prima giornata di visita della città stessa con tutto quello che è la rappresentanza e la presenza delle varie fasi storiche e a seguire si potrà visitare Fontanellato con i bellissimi dipinti del parmigianino. Anche una cosa molto curiosa che è il labirinto del Masone, è un labirinto voluto dall'editore Franco Maria Ricci che permette di scoprire all'esterno tutta una serie di capolavori e di giochi. Diciamo che i nostri eventi sono legati a delle mostre o a dei momenti che ci rimandano a delle fasi storiche molto importanti per quanto riguarda l'ospice GL. Il primo di questi eventi è la visita Binario 21 a Milano nonché al Memoriale della Shoah. Detto questo noi vi aspettiamo nelle nostre leghe per convalidare la vostra partecipazione alle nostre iniziative, soprattutto al Carnevale.